Secondo le statistiche di youtube solo l'1% di chi guarda i miei video è iscritto al canale Mi aiuteresti molto se decidessi di iscriverti ora, grazie! Oh che è rimasto lì come un salame in fiamme, raga! Bro... Un ragazzo gli ha scritto Il procuratore è un vero casto, fa il commentatore di Rainbow Six e alla fine lei posta solo ragazze E veramente? Bro così gli ho scritto Il commento di Rainbow Six viene preso per il culo Adesso ci dirà ancora di più Digli lo zio sta roba Vale, si Ciao! Oh, ciao! Quindi se vuol dire... What's up, f*****? Aspetta, ce lo facciamo dire anche da lui Mi dissocio! Mi dissocio dalla testa di cazzo che l'ha messo Ma cosa vuol dire? Ma cosa vuol dire? Te lo devo dire! Cos'è che ha messo? Ma cosa vuol dire veramente? Ma stai scherzando? No, mi dissocio! Ma no, ma mi insulto... No, sei di scemo, aiuto Che significa? Mi dissocio Non lo so, mi dissocio Ma non credo che sia... Con l'efferfescenza oro L'efferfescenza? Non l'efferfescenza Ma non lo so, è un zero 8-20-1 Ferri e' faig Come scappa, scappa! Ferri! Ferri, sali! Salgo, 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 scappa! Oddio! 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 non ha mosso un muscolo è rimasto lì come un tronco è diventata la torcia umano ma perché sta a crashare la gente? ma non so se succede niente oh cristo attenzione signori torniamo dietro tornate dietro signori ascoltate qui dobbiamo gli zingari sono due eh no eh no ma io sono appena morto che devo fa eeeh eh ammazzami che è vero di aspetta non lo prendo così vai avanti un po' vai un po' vai via vai via bro vai via ahahahahahahahahahah zio ma ciò che mi ha lasciato? o che è che mi ha lasciato? ahahahahahahahhahahahahah pochi è rimasto lì come un salio ma quanti di erano fatti? ma che ne so a me vincere anche da bere però mi devi smentare se non posso mangiare e verrà puro a me 301 stovendo ahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahaha vai rio zitto ZIITO! ZIITO! E' una buona winibacca! Mi sarebbe una bende, bende, bende da mangiare veloceggio! No! Basta! No, mi dissocio! No! No! Mi dissocio alla grande e si reggiunge! No! No! Mi dissocio! Spero che te investono! Vabbè però! Ok! Quella! Anzi vieni qua! Grazie! Fermo 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 fermo! Sono scappato! Aiuto! Aiuto! Vieni qua! Vieni qua! Prendetemi se ci avete le palle! Vieni qua nonno! Col cazzo! Oh! Scegliete voi! Prego! Bella! Ora venitemi a prendere! Io non mi muovo da qua! Vieni qua! Vieni qua! Vieni qua! Vi ha dato il subito! Ragazzi gli sparo una tiserata! No no! Comunque fai cacare! Ma Frama mi è venuto in bocca! Perché mi hai guardato? Cioè nel senso che... Mi hai guardato? No! No! Ne ho fatto uno in matatorlamento! Eh! Bandai! A me uno mi è venuto in faccia! Dai faccia! Nel senso... Nel senso che... Vabbè dai regà! No! Nel senso che era entrato subito! No! Nel senso... Esagerato! Nel senso che è venuto subito da me! Eh! No! Nel senso che è venuto subito in faccia a me! Capito? Dai! Nel senso che è entrato subito di corsa! Ma ti ha proprio fatto male! Ma ha scoppiato! Raga! Ma ha scoppiato! Letteralmente! Ma... Ma ha distrutto! Ma ha scopato! Ma... Non hai capito? Io non me l'aspettavo! E' sempre pregio comunque! Non me l'aspettavo! Non me l'aspettavo! Ma tutto di soppiato! Così non sa con senso! Non c'è sta guarda! Ti prego! Ti prego! Fatto uno! Fatto un altro! Fatto un altro! Fatto! Fatto! Guarda lo spiro che spara che è grande! No! Non ci vedo! Guarda lo spiro che spara che è uno dei più forti a livello italiano! Guardalo! Oh! Questo è un iambino che dobbiamo prendere! Registri! Che stai a fa' 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 povero! Perché così faccio una denuncia che andiamo andando a una cosa! Ha gente che ha sparato! Gentilmente matricolo! Grazie! Xavie! Vuoi restare in casa? Xavie! Vai vai! E dammi venire una matricola! Ah! Ti sta minacciando! Ti sta minacciando! Xavie! Madò! Registra! C'ho tutto qua! C'ho tutto qua! C'ho tutto qua! Bravo! Voglio non fregare a me! Capito? Ho capito! Oh! Fai strike! Al fine di intimidire l'interrogato! Cosa legalmente non possibile durante un interrogatorio! Non si può manipolare psicologicamente una persona pur di fargli sputare fuori quello che volete sentirvi dire! Una persona deve essere liberamente di poter dire quello che vuole perché è un diritto! Più tardi lo metto! E questa cosa non esiste! Poi! Abbiamo la chiave di volta! L'ho tenuta per ultima perché sento i fuochi d'artificio fuori! Mi fa piacere averli anche qui dentro! A un'ora e 54 minuti e 40 secondi! Vi dovete cambiare! Salve! Me la trasti! Mi dai il secondo try! Dopo ti mando la clip! Ragazzi fate la clip! Che cosa è andato storto! Minchia! Allora prima lo guido io e mi fa! No zio fidati! Io lo guido meglio! Lo che voglio organizzare sarà una Pacific con una mafia e quando arriverà tutta la polizia voglio fare una manovra che se va qualcosa male ci si becca tutti quanti il Bella Matteo come stai? Ti hanno annaffiato oggi a getto? Ti hanno annaffiato oggi a getto? Io annaffio! Vabbè eh 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 eh! Ti hanno annaffiato oggi! Sì 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 sì! Vabbè! Uno... Uno annaffio! Bisogna scegliere un gruppo!